Sempre con Richard Benson su One Television, canale 86 del digitale terrestre, do un annuncio in anteprima per cui da gennaio forse la trasmissione Rock Machine si trasferirà sulle frequenze del gruppo satellitare Sky. Ecco, io comincio così la trasmissione e in queste puntate ho deciso da affrontare il metal più estremo, il metal più estremo. Gruppi terribili, ma veramente terribili. In tutte le prossime puntate verranno visionate delle chitarre e mi sono accorto che anche questo provoca interesse nel grandissima espansione. Dopo che ho levato le telefonate, il pubblico mi sono fatto consigliare dal mio pubblico e loro preferiscono più musica e più musica e meno telefonate, questo è il discorso. Può essere telefonate, sono becere come quelle là, è inutile metterle. Vedremo con l'avvento di Sky a gennaio di rivedere la situazione con controlli però più accurati. Io parto in quarta perché ho detto che dirò meno parole e mi sono accorto che in una delle ultime due trasmissioni, verso la fine ho detto un po' troppe parole e non ho mantenuto fede all'impegno prestabilito tra Richard Benson e la direzione di One Television che mi dà ampi spazi e che mi paga per il lavoro che mi è addibito. Grazie a tutti, grazie al mio pubblico che mi dà la forza per andare avanti. Il primo gruppo di stasera è un gruppo che alcuni conoscono e molti non conoscono. fanno parte dell'evi metal più estremo e si chiamano cataclisma. sempre con Richard Benson su One Television in esclusiva. Il direttore della televisione Achille Piccozzi, come ho già detto altre volte, mi ha addibito ad una mezz'ora in più, per cui il programma va in onda tutte le sere dalle 23 alle 24 e 30, dato l'enorme incremento di pubblico, specie negli ultimi tempi, avendo levato le telefonate, un incremento pazzesco. Ho chiesto tra l'altro al mio manager, personal manager Gianfranco De Angelis, di levare da YouTube e da tutti i suoi siti, di cui ha la padronanza totale rispetto a YouTube, Facebook, Twitter, senza menzionare tutti gli altri siti che ho io, tra cui www.richardwarriors.com. Comunque non ce ne frega un cazzo di tutti questi siti, di tutta questa roba, però gli ho pregato di levare tutte le prime trasmissioni che secondo me sono state veramente becere, mi assumo tutte le responsabilità, però c'è un fattore che ho già spiegato e che intendo rispiegare e forse lo rispiegherò anche un'altra volta. Avendo fatto vari concerti col mio impresario De Angelis, avevamo deciso di fermarci a Roma per un periodo e siamo già passati da una televisione all'altra e praticamente ero disabituato a fare televisione e non mi aspettavo delle telefonate talmente degradanti che tendono a disturbare chi vuole ascoltare la musica, tendono a disturbare chi vuole sentire le mie parole e rovinano totalmente l'ingranaggio della trasmissione. Ero disabituato, ero abituato a fare solo concerti, per cui abituato ai concerti con le folle enormi, con le folle sovracariche di gente, però adesso mi trovo in uno stato liberatorio, per me la trasmissione su One Television inizia dalla settimana scorsa, in cui ho trovato finalmente la formula esatta, poi voi sapete che sono intercorsi vari fattori negativi che non intendo menzionare, perché il personale appunto, come ho detto, non mi piace che vanno nell'impersonale, se io ho qualche problema anche voi chi gli frega a gente, la gente vuole un programma, si vuole divertire, vuole sentire della bella musica, vuole vedere delle belle chitarre, vuole eccetera. Poi, quando decideremo in un secondo tempo di ricominciare i concerti, abbiamo già varie proposte, ricordo che io sono sempre un fisioterapista molto bravo appresso, perché ho avuto un problema con le gambe, dovuto ad un incidente recente, possiamo dire che su 3.600 serate, si può dire che ho visto per almeno 12 volte in faccia la morte è sicura, ho due guardie del corpo appresso, è un autista che mi fanno sentire più protetto chiaramente, capito? In forma generica. Io direi di continuare con la musica, come promesso, sempre con Richard Benson, tutte le sere su One Television, dalle 23 alle 24 e 30, mai successo nella storia della televisione in tutto il mondo, può sembrare un'empasi allucinante, eppure è così, informatevi dalle altre parti del mondo, in America c'è la CNN, la NBC, la CBS e quando mai farebbero un programma musicale a sti livelli? Io sono stato ospite in questi programmi televisivi, ma come ospite, non come conduttore, no? C'è David Letterman Show, è un programma, capito? Per le famiglie, per le famiglie americane, si divertono con le cose più sceme, non è detto che l'America non sia così esaltante, no? Come può sembrare dal di fuori, anzi gli americani vorrebbero tutti venire a Roma. Comunque, un gruppo allucinante, il massimo del potenziale della musica, metal più estrema. Loro si chiamano Napalm Death! Poi bisogna dire un'altra cosa, rispetto alle telefonate, scusatemi se insisto molto su questo raggio, ad esempio, telefona quell'amico della palca Monica, no? Che vi assicuro, è una bravissima persona, è un pezzo di pane, però questo parla per 20 minuti, la gente si scoccia, la gente si rompe i coglioni, capito? Per cui, prendendo per spunto quello della palca Monica, rispetto a tanti altri con telefonate che rappresentano il degrado più assoluto della cultura musicale in Italia, non lui, voglio dire, però la gente si scoccia, a mezz'ora al telefono, io mi sento in colpa di cosarlo, per cui per me la trasmissione Rock Machine inizia dalla settimana scorsa, nelle due puntate di Ricordi Gianfranco De Angelis, di cancellare tutte le puntate rispetto alla settimana scorsa dove non abbiamo messo le telefonate, perché tutte le altre non contano un cazzo, capito? Tutte le altre sono una noia mortale, specie per me, quando l'ho rivista, mi sono vergognato, devo dire, di me stesso, capito? Però, come ho detto prima, a mia discolpa, dico, ero abituato a fare solo concerti in giro per il mondo, abbiamo fatto due volte il giro del mondo, in America, da tutti gli stati, in Giappone, lo stadio di Giappone, non mi ricordo quanti concerti abbiamo fatto in giro per il mondo, in Germania, dove il metal è molto seguito, in Brasile, in Argentina, Festival all'aperto, a Puerto Alegre, a Buenos Aires, dappertutto, concerti all'aperto, bellissime, con migliaia e migliaia di persone, era una cosa, una bolgia infernale, chi ci vuole credere, ci creda, chi non ci crede, non ci credesse, a me non me ne pote un emerito cazzo, come tendo a dire, spesso e volentieri. Una mia nuova scoperta, un altro disco, c'è un'idea molto, possiamo dire, vincente di fondo, c'è un riff alla chitarra che ripete delle note, a quel punto entra un coro, tipo da stadio, no? E poi partono in quarta, hanno un batterista allucinante, e questa è la nuova scoperta di Richard Benson, quanti musicisti sconosciuti in giro per il mondo, che si meriterebbero molto di più, si chiamano Parkway Drive, sentite il riff iniziale, sentite il coro da stadio, parte in quarta un batterista micidiale, poi riprende il coro da stadio, e poi ne succedono di tutti i colori, di tutti i colori, Parkway Avenue! Ho annunciato male, la prima volta l'ho detto bene, è un gruppo nuovo, e mi sono confuso, raramente mi confondo, ma sono un gruppo nuovo e la prima volta quando l'ho presentato l'ho detto bene, ma quando l'ho annunciato per andare in onda il pezzo ho detto male, si chiamano Parkway Drive e io ho detto Parkway Avenue. A questo punto vi ricordo sempre con Richard Benson su One Television, in esclusiva rispetto a qualsiasi altra emittente, gli altri non mi hanno capito bene, le altre televisioni non mi hanno capito, non hanno saputo trarre vantaggio, cioè io ho il massimo della libertà, se tu mi lasci il massimo della libertà espressiva, senza condizionamenti verbali, eccetera, io ti porto l'ascolto della televisione a mille, se io ho dei condizionamenti, se la gente cerca di mettermi delle barricate davanti ai miei discorsi, mi taglia, mi induce ad un altro personaggio, cosa che non farei mai, mai, mai l'ho fatto, in tanti anni, avete capito? Perché io non accetto compromessi che poi vanno al mio discapito, brutti schivosi, ultimi, ultimi, ultimi! Vi ricordo sempre con Richard Benson sulle frequenze di One Television, questo vi deve entrare in testa, mio caro Timpano, sei una brava persona, ma hai proprio sbagliato, chiedendo troppo, te sei giocato a un patrimonio, potevi averli te tutti questi soldi, invece te li trovi senza una lira, senza un personaggio come me, che c'hai due maghe con Mariangela, ho visto, due maghe e uno che fa all sport, in maniera deleteria tra l'altro, non capisce un cazzo di calcio o di altri sport attinenti, non so manco se mi fa, capito? sei finito Timpano, mi dispiace, avevo il massimo rispetto di te, pensavo che eri un manager televisivo più imponente, però ti rispetto, ma sbagli a chiedere troppo, sempre meno di altre televisioni, ma dato che le televisioni a caratura regionale stanno chiedendo molto di meno di un tempo, perché la gente non ha più i soldi per comprare spazi televisivi, a parte che noi abbiamo sponsor della Lamborghini qui a One Television, abbiamo il massimo della sponsorizzazione, anche perché One Television è dotato dei macchinari più tecnologici che ci siano al mondo, che si è ben chiaro e questo è tutto merito di Achille Picozzi, ci conosciamo da anni, siamo molto amici e mi auguro che questa collaborazione prosegui per molto molto tempo, grazie, per me è un lavoro, vengo pagato per farlo, gli avevo promesso di inalzare a dismisura gli ascolti della sua televisione, ci sono riuscito, grazie. un altro gruppo, anche questi hanno un nome particolare, però hanno fatto un disco nuovo e sebbene il nome non si addice propriamente al genere che fanno, sono di una bestialità animalesca, dirompente, furiosa, capito? un altro gruppo all'ennesima potenza di una bestia, loro si chiamano Job for a Cowboy! Job for a Cowboy, dovrebbero essere conosciuti perché stanno al loro secondo disco e sono stati recensiti da vari giornali metal e stanno messi bene, devo dire, Job for a Cowboy, anche se il nome può sembrare, sai, un lavoro per un cowboy, mal si addice al genere che fanno, forse hanno voluto creare questo contrasto, uno dei gruppi più amati dai giovani di tutto il mondo, noi stiamo passando tramite lo streaming mondiale, pregherei la gente di tutto il mondo che si sintonizza sullo streaming mondiale di internet perché ricevo applausi e complimenti da tutto il mondo, dall'America alla Germania, all'Argentina, al Brasile, a tutto, all'Africa, dappertutto, da Gerusalemme, da Gerusalemme è arrivata, dall'India, dall'India, dall'India pure, pure dall'India. So, if you don't understand what I'm saying in Italian, remember that I am Richard Benson and I'm conducting a rock program on this television in Italy, exactly in Italy, exactly Rome, where you can hear the best metal music in the world. But this, in this moment, I am pushing the heavy metal at its extreme. But I will go back to power metal and other groups in a different society. Do you understand me? I hope so. Remember, one television on the streaming of internet, Richard Benson in Rock Machine on one television. Thank you. Andiamo avanti. Uno dei gruppi più amati, dei giovani di tutto il decorso dell'heavy metal più estremo. Loro si chiamano… Ah, trasmetto due dischi diversi, con due pezzi diversi, chiaramente, però vicini questa volta. Ho deciso così. Mandavateva così e l'ho fatto. Sono sicuro che tutti voi impazzirete quando sentirete il loro nome. Sono bestiali. Si chiamano i Dimmu Borgir. Eccoci qua, sempre con Richard Benson e Dimmu Borgir, però ho detto, voglio trasmettere due pezzi e voglio trasmettere un pezzo che a me piace in modo particolare, dall'ultimo disco, che mi piace. che i Dimmu Borgir hanno fatto. Questo era precedente all'ultimo disco, però in ogni puntata io tendo a presentare le chitarre. Per farvi un esempio, poco fa negli studi ho incontrato una persona molto gentile con un bambino in carrozzella, sarà diventato padre di famiglia. Io non ho mai voluto avere figli perché non mi andava, io sono libero, completamente libero e non voglio condizionamenti da eventuali figli. E poi, secondo me, è così lunga la strada. Prima piangono tutta la notte, poi diventano più grandi da una scuola, poi quell'altro, poi quell'altro. E' una spesa economica allucinante. A me non me frega niente, io sono il mio gatto, voglio bene il mio gatto, mi basta e avanza e già troppo... Quando gli prende la streghetta è allucinante questo gatto, però può essere anche molto dolce. E non gradivo neanche che essere sposito sarebbe soggetto a figli o cose varie, perché noi vogliamo la nostra libertà individuale e sarebbe stato un dramma poi alla fine avere dei figli, ma con tutte le donne che io ho avuto nel passato e ne dichiaro 15.000, uno mi ha fatto, sì, al telefono mi ricordo, sì, ma evidentemente per aver avuto 15.000 donne le hai pagate tutte. Gli avrei voluto rispondere, ma è proprio questo è il bello. Che c'è di più bello di pagare una donna e sottometterla ai tuoi voleri? Eh? Che c'è di più bello? Tu fai quello che voglio io, io ti ho pagato. Eh? Fai quello che dico io, tu sei una schiava, sei la mia schiava del sesso. Naturalmente sto scherzando, ho avuto delle donne meravigliose nel mio passato che continuo a rispettare e trovo che erano molto più intelligenti le donne degli anni 70 e adesso la donna si sta svalutando, svalutando rispetto all'uomo perché sono tutte ok, parlano tutte allo stesso modo, hanno tutti gli stessi sguardi. Io anzi molto spesso tendo a confondermi, anche tra le attrici molto spesso tendo a confondermi quale sia una, quale sia l'altra, si assomigliano un po' tutte, almeno che non siano attrici di grossa rilevanza tipo Meryl Streep o grandi attrici proprio no. Ho visto pure la Julia Roberts che dopo l'ultimo film, che era l'attrice più pagata a Hollywood, dopo l'ultimo film che è andato male, che è stato girato a Roma, che pare che era una palla umana quel film, poi tra l'altro, si sta dedicando alla pubblicità. Quando voi vedete, ricordatevi, un Antonio Banderas che fa pubblicità, vedete un George Clooney che non ha bisogno di soldi, lui lo fa perché c'ha vari trallazzi in tutto il mondo, o vedete appunto Antonio Banderas, altri tipo John Travolta che ha fatto la pubblicità con mi pare la unzi che era, ti ricordi mi pare, eccetera, eccetera, significa che qualcosa sta andando. Ah, Christopher Lambert che appunto ha fatto una, dei vini sotto suo nome, mi pare, dei vini, c'è una strutteria vinicola, Christopher Lambert, ho avuto brutte notizie da Gerard Perdu proprio oggi, che è uno dei miei attori preferiti, almeno in alcuni film, poi ha fatto anche delle grandi cazzate, però è stato l'attore al mondo che ha lavorato di più, prima di crollare con vari bypass che è un po' che passa al cuore, lui si rifiuta di essere francese a questo momento, non desidera più pagare le tasse enormi che dice mi vergogno di essere francese, non pagherò mai niente e pensa un po' che, pensate un po' che Gerard Perdu, pazzo com'è, perché lui è un po' folle, un po' apposta, pensate simpatico, no? Si era messo a vivere in una villa cantoniera, però dobbiamo ricordarci anche una cosa, i due disastri che sono successi ai due figli di Gerard Perdu, uno praticamente dei figli di Gerard Perdu aveva tali dolori alla gamba che non funzionava più niente, la morfina, qualsiasi antidoto, qualsiasi cosa, questi dolori erano diventati insopportabili, si è fatto tagliare la gamba, nel momento in cui si è fatto tagliare la gamba praticamente il primo figlio di Gerard Perdu ha detto guarda finalmente sono risollevato, era felice di stare senza una gamba, però non sopportava più dolore, l'altro figlio di Gerard Perdu è morto per overdose di eroina, per cui ne ha passate tante, Gerard Perdu vuole la nazionalità belga a tutti i costi e combatterà fino alla fine per non essere più francese, rinnego la Francia, ha detto proprio stamane. A questo punto passiamo alla visione di una chitarra, una chitarra, ho detto prima ho incontrato un signore per le scale con un bambino e mi ha fatto i solidi nomi, ma cosa usi? Mi ha detto le Fender o le Gibson? Certo si sente, no? Cioè siamo rimasti ancora le Fender e le Gibson davanti a tali suoni moderni dell'ultima generazione delle chitarre, vi mostro questa chitarra, è una bomba, notate l'intarsio di legno pregiato che attraversa la chitarra fino ad arrivare dietro la chitarra, una forma che io considero un po' d'aragno, no? Un po' d'aragno e due magneti potentissimi, questa è la nuova generazione delle chitarre che suonano come bestie e hanno suoni ultramoderni. Grazie, vi volevo far vedere un altro pezzo di mia proprietà della mia collezione che il guitar player americano definisce una delle più basse al mondo, rifarò vedere però altre chitarre. Ho saputo che ha avuto un pubblico molto interessato e ciò mi fa immenso piacere, così vi approfondite pure sulla cultura chitarristica, dei magneti, dei punti, delle varie sfaccettature, questo a ponte fisso per cui non c'è la leva ad esempio, capito? Ecco, e vi farò vedere i modelli più innovativi e modelli anche storici, perché non è che mi mancano le Gibson, io ce l'ho delle Gibson molto particolari, però la storia diventa troppo lunga e non mi va di dilungarmi. L'ultimo disco dei Dimbo Burger è allucinante e si chiama Abra Cadabra, Dimbo Burger! Ecco, sempre con Richard Benson su One Television, tutte le sere dalle 23 alle 24 e 30, devo fare un piccolo annuncio, anche se devo dire che è un annuncio triste, ma bappato perché io e Gianfranco De Angelis abbiamo sempre i piedi in terra. Allora, praticamente è morta Alida Kelly, che era una donna bellissima ed era sposata con il grande Walter Chiari, il grande Walter Chiari che purtroppo dall'apice del successo è finito poi quella famosa sera che fu beccato per droga insieme a Leglio Luttazzi e Franco Califano, era il terzo, mi ricordo, fu messo in galera, ma lui già si drogava da molto tempo, ha continuato a drogarsi nel tempo, l'ultima sua donna era Patrizia Caselli, per cui siccome abbiamo diviso un programma televisivo insieme al figlio di Walter Chiari e di Alida Kelly, ovvero Simone Annichiarico e da poco era morto che aveva fatto pure mio padre, sia io Richard Benson e sia il mio manager Gianfranco De Angelis, gli abbiamo fatto le condoglianze dicendo tra l'altro facciamo le condoglianze per la morte della tua bellissima mamma e Gianfranco De Angelis ha voluto intercedere ancora di più dicendo anche il padre di Richard è morto da poco, da pochi giorni e lui ha risposto per me Richard Benson è un personaggio veramente vero e fortissimo, ricordo la trasmissione che abbiamo diviso insieme sulla 7, un programma di indiscutibile successo, auguri a Simone Annichiarico figlio di Walter Chiari e di Alida Kelly, anche lui senza genitori come anch'io, purtroppo e la vita. Andiamo avanti con un gruppo particolare, molto intricato, molto dark, black, sembra tra black metal particolarmente interessante, loro sono i septic flash, andiamo a sentire proprio con questa copertina che rimane un attimo non interdetta davanti alla copertina, ma è importante anche la copertina di il disco, attenzione, siamo in televisione, la gente guarda, anche la registrazione per me del disco, non potete capire i dischi che ho dovuto escludere per via delle registrazioni bislacche orribili, deve essere tutto perfetto, è l'ingranaggio tra varie situazioni che porta la trasmissione Rock Machine ad essere una delle più viste appunto appunto tra le tv regionali ma anche tramite lo streaming mondiali di internet dove rifarò chiaramente gli stessi annunci in inglese, così tutti mi capiranno spero almeno allora Septic Foles ecco sempre con Richard Benson su One Television ecco su One Television tutte le sere devo ricordarlo sempre lo so però va fatto siamo in televisione non siamo praticamente in un concerto dal vivo mio per cui per cui sai certo se io sto in un locale facciamo un esempio e la sera dopo sto in un altro locale certo in quel locale dove vado prima del secondo o del terzo locale non è che dico cioè ho rispetto dei padroni dei gestori dei locali perché non vado a dire domani sera sto in quest'altro locale che magari sta lì vicino capito? cioè non è nel mio stile questo capito? ecco capito? anzi cerchiamo di farli più lontani capito? ecco comunque dovrebbe partire un tour vorrei sentirmi meglio però con le gambe non è nulla di grave ve lo posso assicurare non sono Vasco Rossi che cerca di camuffare le cose io eh io dico le cose come stanno sto molto molto meglio ho un fisioterapista sempre al mio seguito ho un manager eccezionale che è Gianfranco De Angelis che è c'è un'amicizia e l'ho già spiegato diverse volte che ci accomuna nel tempo mi auguro che non finisca mai ma penso che tra due persone intelligenti una volta che si chiariscono e questo è il problema di oggi capito? che non conosci più il tuo vicino di casa che mancano le famiglie che la gente deve andare a lavorare i figli non gliene frega niente della scuola è un mondo in disuso è un mondo allo sfascio capito? però ogni generazione l'ha detto se noi andiamo dietro nel tempo e andiamo ai gladiatori attraversiamo l'inquisizione attraversiamo le crociate attraversiamo il nazismo e quante cose peggio ci sono state nel passato di quelle che ci troviamo oggi eh? eh certo mi dispiace per Marco Pannella che corre il rischio di morire eh facendo un innesimo sciopero alla fame sperando nella nell'agglomerazione carceraria capito? costruite nuove carceri capito? ma secondo me Pannella c'ha un fine io conosco molto bene Marco Pannella ti ricordi Esther l'ultima volta ci siamo incontrati a Rimini durante uno dei congressi con vari politici e stava molto bene in salute ci siamo abbracciati eh eh lo conosco molto bene eh però mi pare che lui sta facendo il martire in un certo senso capito? cioè lui praticamente eh ha preso una caramella è andata a contro i pareri dei medici ha filmato il foglio eh è andato a Radio Radicale a parlare capito? poi si è risentito male e dovuto ritornare in ospedale capito? secondo me lui sta facendo il martire siccome sa che lui deve morire da un giorno all'altro perché da anni ha dei tumori Marco Pannella eh forse vorrà fare il martire come tanti altri hanno fatto no? eh? così eh il suo nome risplenderà nella storia del partito radicale senza nulla a togliere a Pannella eh che è un uomo molto intelligente sotto certi aspetti che ha perso leggermente il lume della ragione lo sento come parla ormai è troppo vecchio secondo me comunque queste sono delle mie idee e ognuno può pensarla come vuole ringrazio essere esposito ringrazio essere esposito sempre presente sempre costante ringrazio Stefano Agostara ringrazio Mario Musumeci in arte Balatonix direttore del mio sito personale pregherei Gianfranco De Angelis da domani di cancellare tutte le vecchie trasmissioni su YouTube eh Facebook e eh dove eh c'è il simposio del medallo unica voce di Richard Benson o eh ma è più che altro ehm eh YouTube eh e eh Twitter eh appunto eh di cancellare tutte le vecchie trasmissioni perché la vera trasmissione la formula esatta finalmente l'ho trovata ringrazio tutti i miei fans in tutto il mondo siete voi chiedo spesso consiglio al al mio pubblico e il pubblico mi ha consigliato bene non ce la facciamo più di queste telefonate terribili io mi trovo terribile con quegli occhiali tra l'altro mi trovo pagliaccesco e lo ammetto capito a un certo momento della mia vita come ha detto Sean Connery che ha smesso di fare l'attore definitivamente dice se io avessi continuassi a fare l'attore sarei ridicolo c'è un momento nella nella tua vita che devi smettere e c'è ragione Sean Connery mio vecchio idolo nei tempi di James Bond quando ero piccolo chiudiamo con un altro gruppo di rompente come sempre li conoscono in pochi tutta la copertina è nera se non fosse per quella pascia sopra che ho messo poi non so Salvatore Cappato complimenti a Salvatore comunque come regista sei il miglior regista che ho mai avuto in vita mia grazie arrivederci a tutti e ci sentiamo prossimamente loro sono i Samael ciao da Richard Benson con i consociati Bari ciao ciao